Ciao ragazzi, un saluto da Luca Di Leonardo di tuttofantacalcio.it Come di consueto in questa rubrica andrò ad analizzare gli acquisti di questo mese di gennaio in particolar modo in questo video andrò a parlare brevemente di Ashley Young, nuovo acquisto dell'Inter un giocatore che sicuramente tutti conosciamo, un giocatore classe 85 quindi quasi 35 anni una colonna del Manchester United. Quest'anno era anche il capitano, infatti ha collezionato 12 presenze di cui 10 da titolare, 0 gol, 0 assist e ben 5 munizioni. Però in generale in 5 anni e mezzo di Manchester United ha collezionato 128 presenze con 7 gol e 14 assist, quindi comunque un giocatore sicuramente propenso al bonus. Quali sono le sue caratteristiche? È un esterno che si trova benissimo nei 5 centrocampo come appunto il modulo di Conte, all'occorrenza può anche giocare davanti, può giocare indifferentemente sia a sinistra che a destra con preferenza a sinistra. Qual è il consiglio di tuttofantacalcio? Sicuramente in una Lega 10 può essere visto come un terzo slot, in una Lega 8 come quarto slot quindi come titolare nel caso giocate con il modificatore di difesa o come un'alternativa ai tre titolari qualora non aveste il modificatore. Sarà sicuramente il giocatore più propenso a essere titolare sulla fascia sinistra visto che Biraghi comunque non sta rendendo al meglio e Asamoahe più fuori che dentro visti tanti infortuni. Può all'occorrenza anche giocare a destra quindi nel caso giocare al posto di Candreva ma Candreva diciamo essendo un pupillo di Antonio Conte difficilmente sarà in panchina. Però questo è un giocatore Ashley Young che sicuramente è un jolly, può far bene, sarà listato difensore quindi questo sicuramente aumenta la sua appetibilità. Chiaramente non svenatevi per acquistarlo perché è comunque un giocatore che ha quasi 35 anni. Vi ricordo ragazzi di iscrivervi al nostro canale YouTube TuttoFantaCalcio per essere sempre informati sui nostri nuovi video. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like. Un grosso saluto dallo staff di TuttoFantaCalcio.it Ciao ciao!